L'Abruzzo è pronto ad accogliere chi scappa dall'Ucraina in guerra e anche a vaccinare i profughi che entreranno nella nostra regione. Lo ha detto questa mattina a Pescara il presidente Marco Marsilio che è in costante contatto anche con il governo nazionale. Il tema è che in Ucraina la percentuale di vaccinazione è molto bassa e quindi è probabile che la gran parte delle persone che arrivano non sono coperti da questo punto di vista di protezione. Quindi ora stiamo interloquendo con le strutture anche del commissario per capire come affrontarlo. Noi comunque i quantitativi a disposizione li abbiamo perché siamo riforniti, insomma abbiamo scorte sufficienti per poter affrontare anche una eventuale campagna di vaccinazione per gli immigrati ucraini e da questo punto di vista ci stiamo ovviamente attrezzando per poterlo fare. Attendiamo di definire modalità operative insieme al governo, non voglio scendere in dettagli burocratici o amministrativi però si tratta di identificare le persone, dargli una classificazione come soggiornanti temporanei, quindi persone straniere temporaneamente presenti sul territorio. Si tratta di attivare una macchina ma nei prossimi giorni ci faremo trovare pronti alla bisogna. Nel frattempo il tema vero è capire quanti ne arriveranno, quanto durerà ancora questa emergenza, se la guerra perdura, se si troverà la via della pace e del dialogo piuttosto che di una lunga e sfibrante resistenza che comporterebbe milioni e milioni di profughi in tutta Europa, quindi un impatto anche notevole sul nostro territorio.